E' stato un uomo tutto vestito da jeans. Mia madre non lo sa. Io sì. Ho insistito tanto perché mio figlio venisse qui. Il concetto è... Si può comprare un destino ma non si può eliminare un sospetto. Ogni volta che chiudo gli occhi io lo ammazzo. Io non posso più rimanere mutuo. Sono pieno di cose con le quali non si può vivere. Così nasce il sospetto. Ciao. 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 Ciao.